E' gol! Gol di Curcio, gol di Curcio, bellissimo gol di Curcio! Vantaggio del Maira, vittore! Allora Francesco, insomma, erano un po' di anni che non ti affrontavamo a questi livelli, insomma, oggi un grandissimo gol, degno di un campione. Che partite hai visto oggi e come hai giocato la tua prova? Mentre la partita è stata, l'abbiamo giocata bene dal primo minuto ed era peccato non portare a casa i tre punti perché ci siamo allenati bene tutta la settimana ed eravamo convinti di portare a casa i tre punti per la salvezza diretta senza passare dai play-out. Quindi anche se domenica dobbiamo fare il risultato a Bocale, niente, dobbiamo andare a Bocale per fare il risultato perché ancora i giochi sono aperti, non siamo ancora salvi. Ci alleneremo questa settimana per bene e per andare ad affrontare una partita dove per noi è importantissima.